La risposta non è tardata ad arrivare dopo l'incendio di sei auto che aveva creato all'arma e passata al setaccio il popolare quartiere Fontanelle Sud. L'operazione, denominata Alto Impatto, è stata eseguita da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, insomma in campo una vera e propria task force. L'attività per prevenire e reprimere gli episodi di microcriminalità è stata estesa anche a Villa Rosina. Sì, si è trattato di una risposta da parte di tutte le forze di polizia, alle quali va il mio personale ringraziamento per l'intenso lavoro che hanno svolto in queste settimane. È stato un lavoro coordinato soprattutto con la compartecipazione dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e mi sembra che i risultati siano stati assolutamente di grande rilievo. Ma è stata un'azione di riguardo nei confronti della popolazione di quel quartiere che deve avere la sicurezza che hanno tutti i cittadini della nostra provincia. 920 soggetti identificati, di cui 226 gravati da precedenti penali o di polizia, 495 autovetture controllate, 158 sanzioni amministrative elevate per violazione al codice della strada, 46 sequestri amministrativi di autovetture e motocicli, 5 giovani denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il bilancio in pillole dell'operazione. I controlli proseguiranno ovviamente? Proseguiranno, come ha detto anche il signor Questore, non solo in quel quartiere ma anche in altri quartieri. E quindi l'azione viene portata avanti in maniera sistematica su tutto il territorio. Non riguarda soltanto Trampani, riguarda anche altre parti del territorio provinciale. E quindi siamo sicuri di poter dare una risposta adeguata in termini di sicurezza nel confronto della popolazione del nostro territorio.